Buon pomeriggio, benvenuti alla prima edizione del Tg6 che apriamo parlando dell'aeroporto d'Abruzzo perché dal primo settembre dovrebbe essere revocata l'addizionale comunale sulle tasse aeroportuali volute dal governo Renzi e che aveva provocato la minaccia di addio dall'aeroporto d'Abruzzo appunto da parte di Rainer, la compagnia locoste irlandese. Oggi alla Camera dei Deputati ci sarà la discussione dell'emendamento per la regione Abruzzo. L'abolizione della tassa rappresenterebbe un traguardo importante per la salvaguardia dello scalo regionale. Il servizio è di Francesca Romana Testi. Buone notizie per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Dopo una lunga trattativa seguita alla decisione di Rainer di lasciare lo scalo pescarese, la regione aveva iniziato una serie di incontri istituzionali con il governo che portasse ad una revoca della famosa tassa aeroportuale apposta dallo scorso mese di gennaio per sostenere l'Italia. Rainer lamentava una perdita netta da capogiro sul costo dei propri biglietti ed ecco il perché di quella decisione che aveva coinvolto anche altri scali nazionali. Resta sul tavolo intanto la questione degli aiuti di Stato negati alle regioni per il mantenimento delle imponenti infrastrutture aeroportuali. Quello che si sta approvando in aula al Parlamento a Roma è quello dell'addizionale comunale sugli aeroporti, quindi sulla bigliettazione. Noi con un grosso lavoro come Regione Abruzzo, grazie anche al Presidente della Giunta regionale dal fondo, che in questi mesi sta lavorando in maniera forte e continua con il Graziano del Rio, con il Presidente Renzi e si è divenuta una risoluzione che porterà un emendamento governativo nella discussione degli enti locali proprio oggi a Roma e quindi dal primo settembre verrà tolto questo addizionale comunale sugli aeroporti e quindi permetterà a Rainer non solo a Pescara in Abruzzo ma anche in altri aeroporti d'Italia a mantenere il volo. Un'altra partita da giocare importante è quella di Alitalia, è quella di riportare il collegamento con Fiumicino, un'altra partita quasi un effetto domino che era scatorito proprio dopo le dichiarazioni di Rainer. Per questo punto come si muove la Regione? Ma io sono convinto che questo provvedimento che il Parlamento oggi approverà in aula riapra tante possibilità con altri vettori. C'è la discussione che era partita alcuni mesi fa sulla Roma-Fiumicino e credo che gli organi, i vertici della saga ma soprattutto credo che anche la Regione Abruzzo, la questione della trasportistica debba riprendere immediatamente. Io credo che sia raggiunto un punto fondamentale oggi che apre uno scenario nuovo a quello che potrebbe essere la Regione Abruzzo con il suo aeroporto. Cronaca adesso assalto notturno alla figliale dell'Unicredit a Chieti Scalo. Una delle vetrate è stata sfondata da malviventi che hanno letteralmente sradicato il banco. Matti, il colpo è stato scoperto questa mattina quando i dipendenti si sono trovati di fronte all'ingresso della banca completamente devastato. In corso le indagini della squadra mobile della questura di Chieti non è ancora stata quantificata l'entità del bottino portato via dai malviventi. Parliamo di politica adesso perché domani torna a riunirsi il Consiglio regionale d'Abruzzo che si avvicina alla pausa estiva. Resta ancora in ballo la nomina del garante dei detenuti ma non si trova la condivisione tra le forze politiche sul nome della radicale Rita Bernardini. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Di Pangrazio, auspica che il lavoro di mediazione porti la nomina entro il 9 di agosto. Lo ascoltiamo. Abbiamo una norma che prevede sempre in maniera infinita il voto dei due terzi. Purtroppo la maggioranza è di 18 consiglieri, i due terzi sono 21 consiglieri. Stiamo ragionando con le forze in Consiglio regionale. Io sono convinto che prima, spero, sono convinto io personalmente che prima della fine delle sedute estive si possa nominare il garante. C'è un lavoro che si sta facendo, vediamo insomma. La regione ha bisogno di tutto meno che non venga detto il garante per i detenuti. In altre regioni il garante è stato nominato. Purtroppo nonostante gli sforzi che si stanno facendo non si riesce a trovare la condivisione intorno a un nominativo. C'è un nominativo molto importante che viene proposto e riproposto. Vediamo in questi giorni prima del 9 di agosto, che è l'ultima sede di Consiglio regionale, se insieme ai colleghi dell'intero Consiglio regionale si può trovare modo e forma per portare a votazione e eleggere finalmente anche qui in Abbrutto la figura del garante. Nuova udienza questa mattina al Tribunale di Pescara per la morte del calciatore Pier Mario Morosini. Lo ricorderete è avvenuto allo stadio Adriatico lo scorso 14 aprile del 2012 nel corso proprio della partita tra Pescara e Livorno. Per il decesso del giocatore livornese devono rispondere di omicidio colposo il medico del Pescara Ernesto Sabatini, quello del Livorno Maglio Porcellini e il medico del 118 in servizio quel giorno allo stadio Vito Molfese. Oggi è stata la volta di tre testimoni della difesa del medico della società Toscana. Ieri c'era stata invece la testimonianza dei periti di accusa e difesa. La prossima udienza è stata fissata per il 13 settembre quando è previsto l'esame dei tre imputati, poi la discussione e infine la sentenza. Il centrodestra ha presentato il libero comitato d'Abruzzo per il no al referendum costituzionale per il quale si andrà alle urne nel prossimo autunno tra i promotori dell'iniziativa i consiglieri regionali e amministratori delle quattro province abruzzesi. Sono attualmente 40 i componenti del comitato referendario nato per dire no alle riforme costituzionali e presentare a presso la sede il Consiglio regionale dell'Abruzzo. Vuole comunicare e comunicherà a tutti i cittadini le ragioni del no per una riforma che è sbagliata, che è già sbagliato definire riforma, che non riduce i costi della politica, che non migliora l'efficienza dello Stato e che è soltanto uno specchietto per le allodole. Non è un no contro le riforme, ma è un no contro questo tipo di riforma che è una riforma autoritaria, ma non perché fa temere per la democrazia. In realtà così facendo abbiamo soltanto avuto una riforma dettata da qualcuno che tiene la poltrona e quindi tenderà a farla approvare. E quindi alla fine abbiamo confezionato, avremmo confezionata una riforma che non fa null'altro che dare più forza alle segreterie dei partiti e più forza all'uomo solo al comando. Ecco, tutto questo noi vorremmo fosse evitato per avere una riforma invece che sia a portata dei cittadini, che difenda i territori e che esalti le peculiarità italiane. La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l'emendamento che riguarda la continuità delle concessioni balneari. Il risultato, secondo le associazioni di categorie, è un passaggio importante in attesa della presentazione da parte del Governo di una legge organica di riforma sulle concessioni a seguito della sentenza con la quale la Corte europea ha messo in seria discussione la proroga dei titoli al 2020. Si tratta di un passo importante per la nostra categoria, ha dichiarato Riccardo Padovano, presidente regionale del Sib Conf Commercio, in quanto restituisce un minimo di stabilità alle nostre imprese e ci consente di affrontare la seconda parte dell'estate con il massimo impegno e ovviamente maggiore ottimismo. E proseguono invece i lavori di adeguamento allo stadio adriatico. presto ci sarà un incontro fra l'amministrazione Alessandrini e il nuovo sovrintendente regionale in servizio di Paolo Renzetti. Assessore Diodati, proseguono i lavori allo stadio adriatico così come era stato programmato dall'amministrazione comunale ma ci sono altre novità perché a breve vi incontrerete con il nuovo sovrintendente della Regione Abruzzo. Sì, proseguono i lavori di risistemazione di messa a norma dello stadio per renderlo pronto per l'inizio del campionato di Serie A, così come fra qualche giorno inizieranno i lavori di rizzollamento anche del manto erboso dello stadio adriatico, così come ci chiede la Lega Nazionale di Serie A per rendere le partite le più belle possibili. Dopodiché abbiamo ricevuto dalla sovrintendenza la risposta al nostro quesito, al nostro ricorso e la sovrintendenza se da un punto di vista ci dice che il ricorso non può essere accettato dall'altro punto di vista ci dice che siccome si rendono conto anche loro delle difficoltà che oggi si attraversano all'interno delle amministrazioni per la gestione delle strutture pubbliche e quindi per le grandi difficoltà economiche ci ha aperto una strada con la sovrintendenza regionale nel senso che ci ha fondamentalmente esortato a sederci con la sovrintendenza regionale con la quale sicuramente riusciremo a trovare un accordo adeguato per fare in modo che riusciamo a fare i lavori per lo stadio adriatico necessari perché questa struttura possa essere data in gestione all'esterno. Abbiamo già preso contatto con il sovrintendente regionale, con il nuovo sovrintendente regionale con il quale ci incontreremo con il sindaco e i dirigenti dell'ufficio sport entro questa settimana per stabilire quali sono i margini di manovra e quindi stabilire un cronoprogramma dopo con la Lega di Serie B che è quella che ci sta preparando il progetto. Vita nuova per la piscina provinciale, sempre a Pescara, che con la regia della provincia sarà gestita dalla WISP Abruzzo e Molise e dal club acquatico, società pescarese di pallanuoto. Presidente Di Marco, nuova vita per la piscina provinciale si riparte con questo progetto importante che vede la provincia ovviamente capofila e poi la società pallanuotistica del club acquatico e anche la WISP Abruzzo e Molise. Vita nuova e vincente direi perché parte una gestione altamente qualificata che consente alla piscina provinciale di tornare a essere non solo punto di riferimento per l'area in cui incide ma per tutta la provincia perché qui parliamo di alte professionalità che si sono cimentate nell'attività sportiva acquatica e che quindi consente a noi come provincia di avere quella certificazione che avevamo chiesto con attenzione da tempo e che grazie a loro abbiamo potuto rintracciare e avere a disposizione. Adesso ci si aspetta una grande collaborazione con l'istituto Volta presente proprio lì dove c'è la piscina provinciale e di questo è tutto caratterizzato nella procedura di gara ma direi che consentirà ai ragazzi di tutta la provincia di poter contare su un presidio di questo tipo che certamente qualificherà non solo gli amatori ma soprattutto coloro che vorranno eccellere in questa attività sportiva e noi di questo siamo molto orgogliosi e soddisfatti. Il consigliere della lista Teodoro Massimiliano Pignoli ha voluto denunciare lo stato di incuria ed abbandono dello stabile che occupava la casa di riposo di via Arapietra a Pescara. Consigliere Pignoli, siamo davanti l'ex casa di riposo di via Arapietra a Pescara. Lei ha parlato di incompiuta. Un'incompiuta da parte di chi? Di quale amministrazione in particolare? Ma iniziata l'incompiuta con l'amministrazione Mascia rischia di diventare con l'amministrazione Alessandria l'ennesima incompiuta. Siamo ormai qui al ridosso di metà mandato, nulla si vede di opere anche se il Consiglio Comunale ha approvato di nuovo la variante che facesse ripartire i lavori ma in realtà ovviamente i lavori non sono ripartiti. Sotto gli occhi di tutti e dei numerosi cittadini che mi hanno sollecitato a intervenire, a riproporre di nuovo questa situazione gravissima da parte ovviamente dei cittadini residenti e non solo. Come vedete c'è erba alta più di un paio di metri ci sono persone che dormono quotidianamente all'interno di queste strutture per cui l'inciviltà la padrona in una via ovviamente quasi centrale o direi centrale della città di Pescara. Noi reggiamo in strutture diverse da questa qui otto anziani che dovrebbero essere messi qui sulla casa di riposo ma che in realtà qui andrebbero molti di più di anziani solo otto anziani e per loro spendiamo circa 120.000 euro l'anno quindi pari a 2.000 euro al mese per ognuno. Vi annuncio sin da ora che andrò a visitare anche questi anziani per vedere le loro condizioni e come vivono in queste strutture che voglio ricordare sono la RSA Santa Maria Ausiliatrice, la Casa Famiglia e Sorriso di Silvi per capire anche se, ma sono sicuro che lo è, se sono trattati bene, come vivono e se sentono la mancanza anche di un habitat che era quella della casa di riposo. Ci spostiamo adesso a Teramo dove è stato presentato il progetto sperimentale Bike to Study Stadi con cui ADSU e Università degli Studi si rivolgono agli studenti per incentivare l'uso della bicicletta Incentivare l'uso della bicicletta tra gli studenti è l'obiettivo del progetto sperimentale Bike to Study a cui ha aderito l'Università di Teramo. L'Ateneo si rivolge ai propri studenti proponendo un vero e proprio cambio di mentalità verso l'ecosostenibilità a vantaggio di ambiente, salute ed economia. Nel Mirino ci sono gli spostamenti da casa e dai nodi d'intescambio con ferrovie e autobus verso i tre poli di Piano Daccio e Coste Sant'Agostino a Teramo e d'Avezzano Dopo una prima fase di sondaggio tra gli studenti per valutare l'adesione al progetto fino al 25 di ottobre Bike to Study entrerà nel vivo attraverso l'erogazione di un incentivo economico diretto di 0,25 euro al chilometro commisurato alle distanze percorse misurate attraverso un apparato elettronico Inoltre l'Unité realizzerà una stazione per ogni polo con colonnina di ricarica elettrica Accanto a questo anche un'incentivazione in diretta con nuove tecnologie per evitare le collisioni con le autovetture i furti e per garantire onde verdi ai semafori L'operazione si sviluppa in un ambito quindi molto ristretto Sulla base di un'intervista, di un'intervista informatica che verrà fatta su un questionario che verrà posto sul sito nostro dell'Azio dove invitiamo tutti i ragazzi a partecipare per darci elementi, non solo per perfezionare il progetto ma anche per dare ulteriori sbocchi di prospettiva Come capite bene noi mettiamo a disposizione 40.000 chilometri 40.000 chilometri sono calcolabili sui tonnellati se non ricordo male sono circa 5 tonnellati di meno di CO2 immessi in atmosfera ma c'è anche meno PM10, c'è meno PM2,5 quindi è un sostanziale beneficio della qualità dell'aria nel contesto urbano Dopo la sperimentazione se i risultati saranno positivi l'iniziativa sarà estesa con ulteriori incentivi economici e con un intervento di premialità anche da parte di Regione Abruzzo Cinque giorni di escursioni tra il Gran Sasso e la Maiella per conoscere le biodiversità di alta quota Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato e i ricercatori ecologici accompagneranno i cittadini in questa scoperta Il racconto della biodiversità nell'Appennino Dal velino alla Maiella passando per il Gran Sasso Dal 20 al 24 luglio 2016, cinque giorni alla scoperta della natura organizzati dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con i parchi nazionali e con altre associazioni ambientaliste Ricercatori ecologici ed esperti cammineranno insieme alle persone comuni con le quali condivideranno il sapere sulle peculiarità degli ecosistemi Noi attraversiamo tre siti di ricerca ecologica a lungo termine Velino, Gran Sasso e Maiella È una stazione di ricerca che lavora nell'ambito di una rete internazionale, mondiale e abbiamo la fortuna di avere tre stazioni di ricerca sotto i nostri piedi dove passeremo con tutti i nostri partecipanti e lì vedremo quali sono le caratteristiche degli ecosistemi di alta quota quindi ecosistemi senza alberi dove per motivi climatici le specie sono tutte più piccole e sono veramente ricchi di endemismi, di specie rare, di specie protette Il percorso è aperto a tutti, grandi e piccini È aperto a tutti, assolutamente in particolare abbiamo due eventi al quale può partecipare chiunque veramente da cinque anni a cent'anni che si chiamano Bioblitz Si tratta di una ricerca intensiva sulla biodiversità il primo ci sarà venerdì prossimo al Gran Sasso e il secondo il giorno dopo alla Maiella, sabato Una notizia appena arrivata e con cui torniamo sul discorso aeroporto d'Abruzzo Ryanair perché il governo ha presentato e subito ritirato in commissione bilancio della Camera l'emendamento al decreto enti locali che riguardava proprio la riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti Il passo è avvenuto durante la seduta notturna di questa notte secondo quanto si può leggere sui resoconti parlamentari e il governo a questo punto potrebbe ripresentare la proposta in aula insomma non è un cambio di programma rispetto a quanto era stato dove avevamo dato conto fino a qualche tempo fa vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi perché da questo passaggio passano potrebbero passare anche le sorti di Ryanair all'aeroporto di Pescara Fatta questa dovuta precisazione cambiamo ovviamente argomento torniamo al nostro telegiornale perché restituire alla collettività alcuni edifici patrimonio della Chiesa che attendono un recupero funzionale come il Museo Diocesiano di Chieti e questo l'obiettivo della collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Diocesi di Chietivasto Collaborare per studiare un progetto comune volto alla riqualificazione di alcuni mobili di proprietà della Chiesa come il villaggio del Fanciullo a Chieti e Villa San Giuseppe a Francavilla al Mare è stato il tema dell'incontro e del successivo sopralluogo nelle strutture tra il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della Diocesi di Chietivasto nell'occasione si è parlato anche del completamento del Museo Diocesano di Chieti una struttura di pregio accanto alla Cattedrale di San Giustino i cui lavori sono fermi da qualche tempo non credo che sia da meravigliarsi se nella valorizzazione di alcune possibilità al servizio di tutti i cittadini siano alla ricerca di possibili collaborazioni istituzioni come la Regione, qui rappresentata dal Governatore e le Chiese di Occesane specificamente quella di Chietivasto di cui sono arcivesco allora Chieti che ha queste strutture ereditate dal passato anche in buona condizione può dare luogo all'accettazione di questa sfida in particolare abbiamo una struttura a Francavilla di straordinario valore anche per la vicinanza al mare e poi vogliamo contemporaneamente anche esprimere la capacità di collocazione culturale ma anche turistica per esempio del Museo Diocesano su questi due elementi noi faremo subito un raccoglimento di approfondimento per verificare la possibilità della copertura finanziaria La vocazione contemporanea di Pescara rinasce con una nuova edizione di Fuori Uso dopo l'Aurum, l'ex Cofa e l'ex Ferrotel protagonista Piazza Alessandrini che ospiterà i migliori insegnanti e studenti delle Accademie d'Arte italiane Dopo un'assenza di 4 anni torna a Pescara Fuori Uso appuntamento dedicato all'arte che quest'anno vedrà protagonista Piazza Alessandrini il tema scelto per l'edizione 2016 si intitola Avviso di Garanzia in mostra l'una accanto all'altro le migliori opere di docenti e discenti di tutte le Accademie d'Arte d'Italia Si riprende una trama interrotta vi erano state delle edizioni in passato di Fuori Uso l'ultima 4 anni fa e io penso che Fuori Uso abbia lasciato un segno nella cultura di massa cittadina perché è sempre stata una mostra che ha proposto il meglio dell'arte contemporanea in linea se vogliamo anche con una vocazione della nostra città perché negli anni 70 qui sono passati molti artisti importanti dell'avanguardia pittorica italiana e grazie all'impegno di Cesare Manzo che è lo storico ideatore di questo Fuori Uso Fuori Uso ritorna, ritorna in un luogo simbolico cioè nei locali, in parte dei locali del vecchio tribunale si chiama avviso di garanzia questa annuale mostra e invitiamo tutti i pescaresi a visitarla a Piazza Alessandrini a partire da venerdì 22 di questo mese di luglio Abbiamo selezionato prima di tutto dei professori di accademie varie in Italia praticamente tutto lo stivale e abbiamo chiesto ai professori a loro volta di selezionare degli studenti che loro ritenevano interessanti e l'idea era quello di fare una mappatura della ricerca artistica attraverso anche la scuola e quindi ridare importanza all'insegnamento, alla scuola che è fondamentale la formazione per il futuro dell'arte ma anche dello stesso paese Un successo di presenze nella giornata di apertura per la manifestazione dall'Etna al Gran Sasso che si svolge in questa settimana a Città Sant'Angelo e che si veste a festa per questa edizione per questa edizione, perdono, 2016 Vediamo Una linea immaginaria che unisce la costa orientale della Sicilia con il litorale abruzzese Un gemellaggio sancito nel 2001 tra il comune di Nicolosi in provincia di Catania e Città Sant'Angelo in provincia di Pescara dall'Etna al Gran Sasso, a distanza di 20 anni rappresenta la quinta essenza della tradizione, della cultura, dei costumi e della gastronomia a rivelarsi i trend union, Sant'Antonio da Padova e la volontà di celebrarlo Siamo al quindicesimo anno del gemellaggio ufficiale perché nel 1995 nasce tutto dall'incontro delle confraterne di Sant'Antonio di Padova di Nicolosi e di Città Sant'Angelo a Padova e da lì è scoccata questa nostra collaborazione e poi nel 2001 abbiamo fatto il gemellaggio ufficiale con Nicolosi e quindi da lì poi è nata questa manifestazione che dall'Etna al Gran Sasso compie il tredicesimo anno e ogni anno è sempre più difficile organizzarla però ogni anno poi vedendo questa gente che ci onora e che viene a visitare Città Sant'Angelo allora ti dà la forza per programmare per l'anno successivo Ci teniamo in modo particolare ogni anno ad essere presenti a questa iniziativa a questa manifestazione dall'Etna al Gran Sasso è diventata anche per noi ormai un punto fisso per tanti nostri artigiani, per tanti nostri produttori diventa anche un momento importante per la loro economia e diciamo che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che come gemellaggio ci eravamo posti avere l'opportunità di sviluppare la nostra terra avere l'opportunità di far conoscere i nostri prodotti avere l'opportunità di far conoscere la nostra terra, la nostra Sicilia Adesso apriamo la pagina di sport ovviamente partiamo con il Pescara che continua il lavoro di preparazione nel ritiro di Palena domani i bianco-azzurri di massimo modo alle 17 affronteranno l'amichevole contro il Palena e l'Alto Aventino biglietti in vendita al costo di 5 euro ma sul fronte bianco-azzurro ovviamente continuano le mosse di mercato piace sempre il difensore slovacco Gjomber di proprietà della Roma ma a proposito di difensori chi è rimasto come Michele Fornasier protagonista della promozione l'anno scorso spiega la solidità del gruppo a disposizione del tecnico bianco-azzurro Sono passate poche settimane dal trionfo di Trapani dalla festa con i tifosi si torna a lavorare come giusto che sia Michele Fornasier pronto ad iniziare questa nuova avventura in Serie A sicuramente un traguardo prestigioso Certo, siamo contentissimi io personalmente almeno lo sto realizzando adesso quello che abbiamo fatto l'anno scorso però siamo carichi e pronti per una nuova avventura Si parte da basi importanti si riparte con la stessa squadra più o meno dell'anno scorso con lo stesso allenatore questo è sicuramente un vantaggio Sì, assolutamente perché abbiamo un grandissimo gruppo l'abbiamo dimostrato l'anno scorso e anche quest'anno con i giusti elementi in più di esperienza o comunque altri giovani possiamo fare molto bene In difesa sono arrivati dei nuovi giocatori c'è Biraghi, c'è anche un nuovo portiere bizzarri vi siete comunque rinforzati anche se dovrà arrivare un altro difensore centrale Michele Fornasier titolare l'anno scorso in Serie B ovviamente vorrebbe mantenere il posto da titolare anche in Serie A Beh, assolutamente ognuno di noi gioca per quello però come ho detto prima non c'è nessun problema perché questo è un grande gruppo e anche il mister ha già dimostrato in passato che non ci sono titolari e chiunque merita e si allena bene giocherà la domenica Si ricomincia per questa nuova avventura c'è grande entusiasmo tra i tifosi la campagna abbonamenti prosegue a gonfie vele ci sono insomma Michele tutti gli ingredienti per poter far bene in questo campionato di Serie A Si assolutamente come l'anno scorso anche i nostri tifosi saranno sempre presenti la società sta facendo un gran lavoro e adesso tocca a noi e cercheremo di fare tutti contenti E a proposito della campagna abbonamenti prosegue davvero a gonfie vele la vendita degli abbonamenti per seguire la prossima Serie A del Pescara ci si avvicina a rapidi passi a quota 4.000 considerando che ieri è partita la vendita libera fino al 22 luglio però per i vecchi abbonati sarà possibile esercitare il diritto di prelazione intanto questa mattina queste sono immagini proprio di stamattina i punti vendita sono stati presi d'assalto dai tifosi biancazzurri che sono rimasti per ore in coda sotto il sole in attesa di abbonarsi non è mancato qualche disagio con le lamentele di alcuni sportivi per la lentezza del servizio in molti per abbonarsi come da disposizione hanno dovuto anche sottoscrivere la tessera del tifoso con tempi che ovviamente si sono ulteriormente allungati intanto proseguendo di questo passo diventa realistico pensare di avvicinarsi per metà agosto a quota 10.000 abbonamenti e sarebbe un grandissimo risultato per la società bianco-azzurra scendiamo in Lega Pro adesso andiamo in casa del Teramo ieri a proposito di Pescara è arrivata l'ufficialità del nuovo rinforzo bianco-rosso e Luca Forte proveniente proprio dal Pescara ora si cerca una prima punta complicato arrivare ad Ernesto Torregrossa più semplice la strada che porta Gianmarco Zigoni anche se nelle ultime ore si è clamorosamente riaperta la strada che porta a Marco Sansovini il Teramo continua a lavorare ad ovindoli agli ordini di Lamberto Zauli ma è molto attivo anche sul mercato ieri è arrivata l'ufficialità di Luca Forte l'attaccante arriva dal Pescara in prestito e va a rimpolpare un reparto quello avanzato che a questo punto aspetta ancora l'arrivo di un'altra punta stavolta di struttura diversa rispetto a Forte i nomi sono tanti sul piatto del direttore sportivo Fabio Lupo che nelle prossime ore dovrebbe riallacciare i contatti con gli obiettivi sensibili per Ernesto Torregrossa è stato provato l'affondo ma le pretese economiche dell'attaccante sono alte e in più fattore da non sottovalutare aspetta ancora di capire quale sarà il suo futuro il Verona retrocesso in Serie B potrebbe decidere di tenerlo in rosa oppure di cederlo ma per il momento la strada sembra davvero in salita e per ora è in stand by la sua posizione più semplice è provare a battere proprietà del Milan ma la scorsa stagione alla spalla che ha vinto proprio il girone B di Lega Pro ma la novità delle ultime ore è che pare essersi riaperto uno spiraglio per arrivare a Marco Sanzovini la punta di Roma di proprietà della Pescara dopo lo stop della scorsa settimana sembra riavvicinarsi sensibilmente al diavolo ieri pomeriggio c'è stato un contatto telefonico con il Teramo ma con l'arrivo di Forte bisogna vedere se Sanzovini è un profilo ancora compatibile con l'attuale assetto offensivo bianco-rosso che avrebbe assoluto bisogno di una prima punta da mettere al fianco di Croce o prendere direttamente il suo posto al centro dell'attacco discorsi che comunque vanno avanti mentre a Dovindoli il lavoro continua senza Ilaria e Speranza per il centrocampista piccoli problemi fisici ma risolvibili mentre il difensore non ha lavorato ieri per un contrattempo muscolare una notizia di mercato che riguarda la Serie D perché l'ultimo colpo di mercato del San Nicolò è Alessio Milillo difensore di 19 anni classe 1997 proveniente dalla primavera del Pescara che dunque non cambia i colori rimane in bianco-azzurro ma va in Serie D alla corte di Massimo Epifani per rimpolpare il reparto arretrato che nei giorni scorsi aveva visto anche l'arrivo dell'ex San Benedettese Leonardo Casavecchia Milillo un prospetto molto interessante che dunque sarà il prossimo rinforzo del San Nicolò parliamo di ciclismo adesso perché il presidente della FederCiclismo Renato Di Rocco domenica presente al Matteotti valuta l'edizione numero 69 della Corsa Pescarese e per l'edizione 70 si vorrebbe fosse prova di campionato italiano il presidente fa il punto della situazione anche se lascia aperto ancora qualche dubbio presidente Di Rocco al di là del risultato sportivo possiamo dire che la più bella vittoria del pomeriggio di Pescara è averla salvata questa corsa ma sicuramente perché è una corsa molto importante di grandissima tradizione l'ultima corsa del centro sud a livello professionistico per cui la prima vittoria è stata sicuramente quella di recuperarla poi c'è anche un bello ordine d'arrivo per cui credo che aver combinato le due cose è un bel risultato sia per la città sia per la società che organizza per Ricci che per tutti gli appassionati del ciclismo ho visto per fortuna una buona tesione da parte di tutte le istituzioni per cui se ci vogliamo credere tutti quanti a fare un progetto magari a medio e lungo periodo in modo tale di non fermarsi solo a salvare una corsa ogni tanto però credo che la città di Pescara che ha fatto della bicicletta un utilizzo quotidiano promozionale e turistico per cui io credo che si possa ben sposare con una corsa importante come questa che è conosciuta in tutto il mondo L'anno prossimo sarà prova di campionato italiano quindi cambierà data e si assegnerà la maglia tricolore? Beh sarà dobbiamo vedere che progetto c'è da parte di Ricci insieme all'istituzione perché se è solo per fare il campionato italiano diciamo di no se invece è un progetto mirato a mantenere e garantire il Matteotti almeno per tre anni allora la federazione sarà molto attenta a questo progetto fare una prova unica ripeto un po' come salvare Trofea Matteotti per quest'anno non ha senso se ci si crede territorialmente perché il ciclismo promuove e valorizza il territorio lo ha dimostrato anche oggi se c'è un progetto a medio termine sicuramente valuteremo l'attenzione oggi come oggi ancora siamo in stand by e cerchiamo di valutare tutte le situazioni mi fa piacere che il Presidente D'Alfonso sia molto motivato in questo e aspettiamo di ricevere un progetto ben definito e chiudiamo adesso con una notizia di basket una notizia positiva perché il basket teramo del Presidente Ermanno Ruscitti vede accolta la sua domanda di ripescaggio in Serie B il Consiglio federale dunque ha dato il via libera per l'iscrizione al campionato superiore della squadra bianco-rossa che adesso dopo l'addio di coach Sandro Di Salvatore dovrà prima trovare un timoniere e successivamente cominciare il mercato dei giocatori per rinforzare una rosa che l'anno scorso dopo aver vinto i play-off regionali contro l'Aerino Termoli si era fermata solo alla pool promozione sfiorando di fatto il salto di categoria che però arriva nelle stanze del Consiglio federale e questa era l'ultima notizia per il TG6 seconda edizione questa sera alle 19 per il momento è tutto vi ringrazio della cortese attenzione vi auguro un buon pomeriggio a l'Aerino Termoli che si rinforzare a l'Aerino Termoli che si rinforzare Grazie a tutti.